Musica Questo è il terzo anno che partecipiamo perché tocca temi a cui noi siamo particolarmente legati. Tutte le tematiche che servono a incrementare il territorio, a dare una spinta al territorio, in particolare ai giovani. Le nostre iniziative che riguardano questo tipo di pratica sono numerose. Facciamo borse di studio per gli studenti, abbiamo messo in atto lo studio sì che è un incentivo per gli studenti universitari, il prestito d'onore. Siamo molto legati anche alle tematiche che riguardano l'inserimento delle donne, la parità di genere. Ci sta molto a cuore poter intervenire per dare ai nostri giovani l'opportunità di realizzarsi sul nostro territorio che creando un circolo virtuoso da un lato incrementa l'occupazione e dall'altro crea ricchezza per le nostre famiglie. Siamo particolarmente attenti alla piccola impresa, alle famiglie, in particolare il credito cooperativo nel suo complesso in tutta l'Italia con la nostra capogruppo di CRE ha sviluppato un'economia che riguarda l'83% per l'83% del finanziamento alle piccole imprese e alle famiglie. Tutto questo sempre perché noi siamo banche del territorio.